Ciao a tutti i cubetti, che macetano sono tornati? Oggi faremo un esperimento col sacchettino magico da freezer. Allora, gli ingredienti per fare questo esperimento sono acqua, matite e sacchetto da freezer. Ora versiamo un po' di acqua all'interno del sacchetto. È troppo poco. Così. Chiudiamolo così e si sospende. Qualcuno tenga su? Ora lo chiudiamo per bene, così. Qua sopra. E facciamo e entriamo. Entra con la matita. Esci da un'altra parte. Sta funzionando. Ragazzi non è uno scherzo? Si possono usare qualsiasi penna, qualsiasi matita, basta che siano belle attentite. È un po' afficcato. Ah, e con la penna non ha funzionato. Non ha funzionato. La mia è andata benissimo. Però con le matite sì. Provate anche voi. Postate il video qua sotto. E diteci com'è andata. Ciao. Ciao. Alla prossima. E asciugate quella che è uscita. Alla prossima. Alla prossima.